Lei è Alessia, ha 37 anni ed è mamma di Antonio. Lei è Giulia, ha 40 anni ed è mamma di Beatrice. Lei è Barbara, ha 30 anni, è mamma di Andrea e Bianca. Queste donne hanno tutte una cosa in comune. E ti stupirà, non è il fatto che siano tutte mamme. Bensì che tutte, dopo la maternità, sono rientrate al lavoro, dividendo le responsabilità dei figli con i papà dipendenti del settore privato. Giorgio, Luca e Riccardo hanno chiesto il congedo parentale e grazie al progetto Rientro, Alessia, Giulia e Barbara hanno usufruito dell'incentivo della Regione Piemonte. Perché condividere le responsabilità di genitore significa più tempo da vivere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.